e ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono mister mario e oggi siamo tornati con clash royal dove faremo quattro partite a episodio ho deciso ragazzi di lasciare quel deck lì per adesso perché non voglio cambiarlo sinceramente per adesso quindi usiamo la nostra tattica uc di gente e non è andato dalla parte sbagliata ma perché succede sempre così e per questo c'è il draghetto che abbiamo trovato c'è sto penning a caso dello scorso episodio oddio cosa diavolo sta succedendo aspettate che abbasso la voce perché non si sente niente non capisco quello che sto sentendo morti tutti che casino beh qua ti uccido il cane ok questo non va affatto bene alla 532 di vita ma siamo sempre in vantaggio sempre comunque e che cavolo mi sto anche rompendo leggermente sai ma è comunque lasciamo abbassare il draghetto fa niente se ci fa un punto poi se moriamo tutti fa niente moriamo tutti e tempestino vai gigante vai gigante vai 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 e vai tanti punti vita per non è possibile dai fai un ultimo colpo che ci fa vincere no no un'altra volta un'altra volta un'altra volta no un'altra volta no vabbè tanto vinciamo anche come abbiamo vinto e poi ragazzi nell'eventualità che non finisce la vita avevo anche la palla e fuocata quindi avrei vinto lo stesso mai ok vabbè in caso ci fossero bauli d'oro non sbloccherò questi fino alla fine dell'episodio due minuti ragazzi abbiamo già vinto una partita proprio wow oggi per chi volesse saperlo non è proprio la prima volta che gioca clash royale è già un poche ci gioco un altro account ma ho deciso di iniziare proprio dall'arena uno per divertirmi di più perché sennò non c'è proprio tanto gusto uno perché sennò da un gridare di arena sarebbe stato dio ciao mini pecca questo ciao mini pecca oddio ciao perso guarda la cui forte che è all'uno e all'uno però è forte io ce l'ho nel mio account al cinque è forte anche il cinque è anche al cinque molto forte eh senza ombra di dubbio ti uccido il cane comunque andiamo avanti no non dovevo fare sta cosa ora c'ha il doppio attacco lui cavolo non ci voleva non ci voleva proprio qua muore all'ultimo proprio sono sicuri ecco infatti come voleva si dimostrare 77 di vita quanto l'odio questo gioco quando devo fare così cosa cosa mi ha messo davanti mi ha messo davanti tutto mi ha messo davanti il tutto questo non è possibile non è possibile non è possibile però non è possibile ma muori male ok tanto ragazzi questa siamo ma muori siamo abbastanza sicuri che la perdiamo ecco infatti ovvio come voleva si dimostrare mettiamogli davanti to anche gli arcieri così finisce prima ecco infatti ma madonna un po di vita su ma madonna un po di punti vitali in più non farebbero male a nessuno sapete ora ho decisamente perso però ragazzi mancano 60 secondi più o meno è una cosa buona questa no è una cosa è una cosa bruttissima è inaudito che posso perdere così posso perdere così come un decenebrato hai detto buona fortuna troppo tardi anche lui aveva perso una partita anche lui aveva perso una partita non l'hai ammesso però questo vabbè andiamo a giocarci le altre due partite poi basta metto questo qua e poi ti metto questo qua per la tua gioia zio ok madonna mia quanto li odio ti odio il cane zio lo sai ti odio il cane non perché ti odio veramente il cane però devo dirlo a qualcuno quindi lo dico a te ok beh tanto questo perde lo se non è possibile finisce sempre così ma come cavolo è possibile che ho sta sfiga vabbè tanto muoiono tutti ora state tranquilli bom morti molto facile simplifasil allora a questo punto aspettiamo il principe quasi quasi uccidilo male bom morto ok ora si mette pure a correre quindi ti prendi il doppio danno perché sei una persona cattiva si l'ho detto quindi andiamo avanti magari magari stavamo partendo malissimo proprio schifo però la partita si sta svolgendo bene dai si sta svolgendo un po meglio di quel che pensavo lasciamogli andare così non mi fregano mettiamogli dietro gli arcieri che aiutano al loro modo guarda che faccia guarda che faccia guarda che faccia la faccia del 3 a 0 madonna mia come va a vincere questa partita all'inizio stavo un po' dominando devo dirlo eh però ci siamo fatti valere di più noi andiamo a fare l'ultima partita di oggi dai ok 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 un cavolo allora andiamo mettiamogli qua dietro lui così aiuta un pochino a suo modo e lo fa diventare anche un po' più veloce qua vedo che siamo già morti in una torre ok e questo non è un grande notizia non è un grande notizia questo dai che muore ok è morto quello e ci abbiamo il gigante quasi intatto quasi ora sicuro mi uccide il gigante con qualche cosa no semplicemente con la forza dell'immaginazione boom ok ci siamo ci siamo ci siamo due colpi un colpo sì sì come andiamo a vincere anche perché ho la batteria scarica e lì si sta spegnendo il telefono quindi dovevo anche fare in fretta vedete paolo e d'oro anche qua vabbè ragazzi se vi è piaciuto ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi iscrivetevi anche al canale di Lucky No King ciao a tutti i giorni è piaciuto che si sta spegnendo il telefono